Ciao a tutti bambini, sono Caggiolino, il simpatico cane Lucanum. Oggi sono in giro nella città cattedrale. Sapete qual è la città cattedrale? No, è Acerenza, la bellissima città medievale lucana, caratterizzata dalla solenne cattedrale di Santa Maria Assunta e di San Canio, che troneggia nel centro storico ed è considerata una dei più bei borghi d'Italia. Pensate che il nome Canio significa magnifico sorvegliante. Infatti si narra che nella cattedrale sia nascosto il sacro gral, il calice da cui beve Gesù nell'ultima cena. Biu, che mistero questa basilicata! Pensate, bambini, che di acerenza ne hanno parlato gli scrittori antichi come Orazio, Tito Livi e Procopio. Beh, non mi resta che fare un giro in questo borgo e ammirare anche la natura che circonda questa fortezza. Vediamo un po' che cosa c'è in giro. Il nido d'aquila dell'alta acerenza, fortezza di guerra, così ti han raccontato per secoli. Romana, normanna, rinascimentale. Splendi su di una rupe accarezzata dal bradano e difendi da sempre la tua lucania. Bambini, guardate cosa ho scoperto ad acerenza. Attorno al paese, immerso nel verde dai boschi dell'Appennino, c'è un enorme lago. E lì vicino ho incontrato questi fantastici camelidi sudamericani chiamati Alpaca. Pensate, bambini, che questi camelidi, allevati per fare della ottima lana antiallergica, hanno bisogno di essere abbracciati perché soffrono la solitudine. Biu, quanto sono teneri! Ciao, bambini, e alla prossima avventura! Ciao, bambini, e alla prossima avventura!